oggi facciamo pasta e piselli a moto mio pochettino di cipolla pancetta a cubetti ora da partendo da freddo iniziamo a rosolare pancetta e cipolla ora quando la pancetta inizia da rosolare aggiungiamo qualche pomodorino cilegino scorzetta di parmigiano a questo punto aggiungiamo i piselli precotti continuiamo a rosolare tutto quando giriamo aggiustiamo di sale occhio che la pancetta già è salata e a questo punto acqua fredda l'acqua inizia a bollire caliamo direttamente la pasta guarda qui che spettacolo completare il piatto un filo d'olio per chi piace una macinatina di crepe e il piatto è pronto se vi è piaciuto la ricetta mi raccomando iscrivetevi al canale youtube e seguitemi anche su facebook sempre pedalando e cucinando alla prossima